Buon Natale a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e dal suo look prettamente sobrio come potete osservare videocorso di Natale nella mia idea da guardare con la pancia piena da soli o in compagnia per creare e divertirci a casa con i piccoli e con i grandi ma anche in classe a rientro una edizione didattica del gioco chi vuole essere milionario e per fare questo ci serviamo di una grande risorsa per la progettazione didattica in digitale che è Learning Apps sito di riferimento learningapps.org nulla da installare anche in questo caso ed è sufficiente utilizzare un browser quale Google Chrome o Mozilla Firefox. La prima volta occorrerà cliccare iscrizione in alto a destra e poi cliccare crea nuovo utente dal secondo accesso in avanti invece è sufficiente riempire questi campi cioè questi spazi con le credenziali che abbiamo utilizzato la prima volta vado ora rapidamente a utilizzare una delle mie usuali credenziali cioè uno dei miei account scolastici in questo caso non un Google Suite ma possiamo utilizzare sia un account di posta personale o scolastico non Google Suite che è appunto un Google Suite per poi scorrere l'elenco non spoilerò nulla ma guardate che belle che sono le attività didattiche di Learning Apps e poi ecco trovo il milionario e ci clicco. Quelle che vediamo qui quella che stiamo vedendo qui da un click su ok è una videata di esempio esempio un esempio due esempio tre dove già vediamo la grafica tipica del programma tv ma noi creiamo da zero quindi io clicco su crea app nuova ed eccomi qua allora procediamo in poco tempo creeremo un'attività carinissima dunque clicca nella riga nessun titolo indicato e digito chi vuol essere milionario tecnologia edition la immagino ad esempio così calibrata nel mio caso su tecnologia ma può andar bene per qualsiasi ordine grado di istruzione qualsiasi disciplina l'assegnazione dei compiti è un feedback che possiamo o non possiamo dare un campo facoltativo domande del gioco sono blocchi come potete osservare che si dividono per punteggio e difficoltà pensate alla trasmissione tv quando cioè parto dalle risposte che mi attribuiscono minore denaro e poi arrivo sino al milione quindi abbiamo facile molto facile medio difficile molto difficile inserisco ora a campione un paio di domande al massimo quindi domanda sul facile per cosa sta l'acronimo www la risposta esatta naturalmente è world wide web io sto cliccando da una riga poi ad un'altra poi ad un'altra ancora quindi clicco per avere il cursore risposta sbagliata world web wide risposta sbagliata ancora world web women vabbè risposta sbagliata ancora www web e poi potrei aggiungere domande appartenenti a questa categoria andando a cliccare su aggiungere domande del gioco in realtà pesco un altro livello di difficoltà ad esempio domande del gioco medio 5000 la valuta mettete la voi quella che volete domanda allora cambiamo in questo caso in che anno che anno è nato internet o è nata se intendiamo al femminile rete quindi mettiamo nata la risposta corretta è 1969 perché così lo aggiungiamo è una carineria così per chiacchierare magari il giorno di natale nelle feste internet non è nata per gli usi che attualmente conosciamo nel 1969 si chiamava arpanet ed è nata negli stati uniti un dipartimento arpa appunto per la ricerca avanzata quindi le risposte sbagliate noi le digitiamo e scriviamo 2000 oppure scriviamo 1970 oppure scriviamo 1996 e le domande sono così inserite quando terminato scorro bene fino in fondo nel campo feedback io posso indicare ciò che deve essere mostrato quando la risposta è corretta l'aiuto quindi un suggerimento lo inserisco leggiamo sempre bene i campi che ci guidano nelle risorse le indicazioni scritte qui saranno accessibili cliccando su una piccola icona nell'angolo superiore a sinistro se scorrete all'indietro questo mio videocorso nell'esempio c'era nell'angolino in alto a sinistro un riferimento da cliccare poi clicco su mostra anteprima pulsante in blu al fondo e si carica l'esempio c'è la nostra anteprima eccola qui la grafica del milionario per cosa sta l'acronimo www world wide web clic lampeggia la risposta corretta passo con il rombo a un altro grado di difficoltà in che anno è nata internet lo sbaglio 1970 aciderboli rosso peccata hai perso prova con un altro e lì in realtà che cosa accade vado a ripartire bene questo è l'esito finale clicchiamo su salva app pulsante in basso a destra e adesso la nostra applicazione si trova in le mie app perché le mie learning apps poi si collocheranno lì come posso inviarla ai miei alunni beh abbiamo un link web da trasmettere che è la modalità finestra che noi stiamo osservando la modalità che io vi consiglio è la modalità link a schermo intero lo seleziono in blu clic tasto destro e poi tasto sinistro su copia e ad esempio posso postare questo link in un messaggio sulla bacheca cioè lo stream di classroom o sulla bacheca di we school o in un altro ambiente di restituzione oppure ancora anche sulla bacheca dei registri elettronici così diffondo la possibilità di giocare imparando semplice ed efficace a questo punto che cosa devo fare ora tanto per mostrarvi la visualizzazione alunno clicco sui miei tre pallini in alto a destra qui di chrome apro una nuova finestra di navigazione in incognito fatto un clic vedete sfondo grigio tasto destro in colla do un invio sulla tastiera ed ecco come vedranno gli alunni e ora capite perché io vi consiglio questa modalità che è effettivamente ben espansa e ci permette di avere una bella visualizzazione dunque a voi la prova pratica su strada che ognuno crei il suo personale chi vuole essere milionario io vi auguro ancora un sereno natale torno serio e torno sobrio senza i miei occhiali da renna un caro saluto sempre da andrea cartotto ringraziandovi per l'affetto e per la stima e dandovi appuntamento al prossimo video corso ciao